Il mio commento a questa legge di cui hai già parlato prima, questa diminuzione del fondo per i parenti delle vittime delle mafie e del racket? Non è possibile, non è possibile, perché se no facciamo retorica, il ventennale della strage di Capace diventa meglio, celebrazioni. Il miglior modo di fare le memorie vuol dire dare la dignità ai familiari delle vittime. A quelli che hanno subito quella violenza, che hanno perso gli affetti, le persone care. La dignità, la dignità passa anche attraverso quel fondo, non è tutto, ma certamente è un segno di attenzione da parte dello Stato, delle istituzioni. Non può essere ridotto, non è merce. Qui c'è la vita delle persone che mi sono state messe in gioco, il problema di democrazia. La democrazia si fonda su due doni, la giustizia e la dignità umana. Grazie. 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 Grazie.